signori buongiorno a tutti questa mattina stiamo blockshaftando questa bellissima x1 qui direttamente da roma nel centro installazione blockshaft dei fratelli cangiano opereremo su questa x1 macchina molto prestigiosa e bella guardate questi interni questa mattina è arrivata e stesso stasera la riconsigniamo questo il centro blockshaft di fratelli cangiano il nostro scuderone volevo ringraziare tutti cangiano rent e un bacione buona giornata